andiamo a vedere in questo video invece gli accordi facciamo un po' il video accordiamo anche un po' questo strumento allora qui apre dopo la fine del secondo solo si bemolle e poi c'è la frase do diesis minore sol diesis minore fa diesis minore sol diesis maggiore con la quarta do diesis minore sol diesis minore fa diesis minore sempre sol diesis maggiore quarta poi do diesis maggiore quindi la terza volta sol diesis maggiore fa diesis di minore sol diesis maggiore sol diesis maggiore e la adesso cromatico da do diesis la maggiore adesso è la maggiore adesso andiamo a mi do diesis maggiore do diesis maggiore sol diesis maggiore do diesis maggiore sol diesis maggiore fa diesis minore sol diesis maggiore la di nuovo do diesis maggiore cromatico cromatico do do diesis maggiore e qui c'è il solo allora vediamone adesso un dettaglio proprio lentamente una chitarra bella scordata sono temperature indicibili infatti non si riesce ad accordare decentemente allora abbiamo detto do diesis sol diesis minore fa diesis minore poi fa per due volte questo sol diesis la quarta la quarta significa che mettiamo il mignolo davanti al medio quindi in questo caso sul sesto tasto della corda sol e poi lo rimettiamo sopra sulla corda questo tutto per due volte dopodiché andiamo a do diesis maggiore sol diesis maggiore fa diesis minore di nuovo sol diesis maggiore e poi fa questo movimento cromatico dal do diesis minore quindi andando a prendere tutte le note che ci stanno tra do diesis e il la sulla corda del la al contrario la terza volta andiamo facciamo la la bemolle sol fa diesis mi maggiore quindi quindi poi si do e poi togliamo qui questo però mi sa che abbiamo già un video bello e pronto da vedere su questa rettica funky qua per quanto riguarda invece no